In Consiglio regionale proseguono i lavori per il bilancio a suon di commissioni che andrà approvato entro la fine dell'anno con le solite schermaglie tra maggioranza e opposizione, soprattutto sui 5 milioni per le famiglie e il caro bollette. L'opposizione non li trova tra le maglie del bilancio ma i fondi non sono spariti. I 5 milioni insomma ci sono ma sono assenti dalle leggi di stabilità perché fermi ai box dove resteranno sino a che il Consiglio non voterà il bilancio a fine anno. La Giunta quindi dovrà deliberare la variazione dello strumento economico. Insomma la Giunta aspetta l'approvazione della finanziaria nazionale per capire quali sono i sostegni alle famiglie e fare il regolamento per la platea dei beneficiari. Abbiamo approvato questo emendamento che però dà mandato alla Giunta 60 giorni di tempo per definire la platea delle persone che vogliamo aiutare che naturalmente saranno quelle in maggiori difficoltà economiche di partenza. Pertanto nel momento in cui sarà approvata la finanziaria nazionale e la Giunta avrà analizzato quali sono le misure di sostegno contenute a livello nazionale se c'è necessità interveremo noi perché la nostra finanziaria quest'anno già malleva molte situazioni del passato che non trovavano puntuale risoluzione. Per esempio non c'è più l'IRAP per tutte le Ollus. I fondi per i prossimi anni spaziano su tanti settori in diverse zone della regione. Il PD e le opposizioni però continuano a dare battaglia. Avevano chiesto 90 milioni e ne arriveranno 5, una Giunta nemica degli abruzzesi, così l'hanno definita. Insomma fondi cancellati dal bilancio mentre per loro aumentano per altre cose. È un gioco di parole che in realtà però delegittima il ruolo del Consiglio regionale perché noi nella ultima variazione di assestamento al bilancio abbiamo fatto una battaglia chiedendo lo stanziamento ma chiedendolo formalmente per iscritto sull'annualità 2023 come azione compensativa delle difficoltà sull'energia delle famiglie e delle imprese. Oggi non è così, non troviamo questi fondi e quindi si riapre un discorso che ci dovrà indirizzare ad un'ulteriore battaglia che in realtà noi già avevamo portato a casa. Ma lo definisco la vergogna delle vergogne perché si trovano soldi e si rifinanzia e si danno nuovi soldi al ritiro del Napoli Calcio a Castel di Sangro e si trovano soldi per i cartoni animati e mettono zero euro per le famiglie e i malati oncologici. I 5 milioni di euro promessi per le famiglie non ci sono, quindi un colpo al cuore alle famiglie. La mia legge sui malati oncologici che consentiva di aiutare appunto i malati oncologici ha nel capitolo zero. Quindi questa è una vergogna totale. Se non fanno marci indietro io ritengo che bisogna mettere in atto una forma di ostruzionismo mai visto nella storia di Regione Abruzzo. E intanto 16 sigle tra cui CNA, CIA, Coldiretti, Confesercenti, Confcommercio e le sigle sindacali hanno scritto alla Regione per chiedere pure sostegno alle imprese in relazione al caro bollette con un pacchetto di proposte. Rispetto ai fondi annunciati per le famiglie insomma anche loro chiedono strumenti analoghi compresa la sospensione degli addizionali IRPA e FIRA per quattro mesi bollo auto e tant'altro.